buongiorno oggi molto nuvole su tutta l'italia ma con pochi fenomeni di rilievo limitate alle isole maggiori e al meridione regione di nord ovest per il passaggio della perturbazione numero 3 di aprile giunta ieri domani invece giornata più piovosa perché arriva la perturbazione numero 3 che porterà piogge diffuse su tutto il centro nord ma poi martedì migliora ancora risidue piogge deboli sulle regioni meridionali sulle regioni appenniniche ma vediamo l'immagine del satellite virtuale delle ore 13 di oggi vedete appunto le nuove che ricoprono gran parte dell'italia per la perturbazione numero 3 di aprile ma vediamo a questo punto la previsione per la giornata odierna vedete le nuvole che ricoprono tutta l'italia le piogge diffuse sulle isole maggiori piogge debole sul piemonte lombardia ponente ligure e isolate debole nevicate sulle regioni alpine andiamo a vedere le temperature previste per la giornata odierna temperature che saranno in calo per l'arrivo di venti più fresche da balcani appunto a proposito dei venti vediamo questi venti vedete venti forti di bora sull'adriatico di maestrale sulle regioni tirreniche bene andiamo a vedere il tempo che farà nella giornata di domani lunedì arriva la perturbazione numero 4 piogge diffuse su tutto il centro nord e navicate sulle alpi oltre 1300 1500 metri vediamo anche la situazione prevista per martedì vedete martedì migliora ancora risidue piogge sull'ansio campani al sud qualche nevicata sulle alpi di confine ma niente di più bene ritengo di avervi detto tutto vi ringrazio per l'ascolta ancora un buongiorno non 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 non